Eleganza senza rinunciare alla sportività, qualità, ma con un occhio all'ambiente e prezzi più alla portata rispetto al passato. L'edizione 106 di Pitt Immagine Uomo, la fortezza da basso di Firenze, si cara nella realtà e in tutte le sue difficoltà. La Kermess, con oltre 700 stand allestiti, espone le nuove tendenze per quanto riguarda le calzature. C'è un affinamento che coinvolge sia i modelli più slim che i costi più agevoli. Oggi sicuramente la tendenza dal mio punto di vista è comunque di presentare sul mercato del prodotto vero che ha determinati requisiti di qualità. La fascia prezzo è fondamentale perché è da un anno questa parte che comunque la voglia di spendere diciamo il prezzo medio è comunque cambiato rispetto a un paio di anni fa e sono cambiati un po' i volumi. Fino a 18 mesi fa i volumi delle scape erano più massicce, fondi più alti e adesso cercano prodotti un pochettino più basiche. Anche l'abbigliamento tiene in considerazione il dinamismo della vita quotidiana, quindi entrano con prepotenza capi che non hanno bisogno di essere stirati, che rispettano l'ambiente e che garantiscono eleganza e allo stesso tempo uno stile casual. Crediamo nella sostenibilità, le nostre collezioni sono realizzate con solo materiali naturali, utilizziamo tessuti riciclabili e lavabili lavatrici, quindi siamo molto attenti a questo. Crediamo che la tendenza sia di avere un abbigliamento un po' più, come dire, confortevole, quindi le vestibilità si allargano anche nel classico senza esagerare e dare la possibilità di avere una collezione rassicurante.